bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi voglio condividere con voi una cosa abbastanza particolare che mi è arrivata un regalino di natale leggermente in ritardo ma super super gradito tutto è iniziato circa all'inizio di dicembre quando sono stato contattato direttamente dai piani alti di twitch che mi hanno detto mi puoi lasciare il tuo indirizzo perché abbiamo piacere ad inviarti un pacchettino io ovviamente ho lasciato tutto e ragazzi proprio ieri è arrivato questo direttamente dall'inghilterra devo dire che già visto così wow 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 io non ho mai ricevuto un pacchetto con il logo di twitch tanta tanta roba il pacchetto è molto leggero sentiamolo in asbro come sentite c'è qualcosa di duro sopra e qualcosa di morbido sotto ora io credo sia una magliettina intanto colgo l'occasione per ringraziare twitch italia se sta guardando questo video per questo meraviglioso regalo e poi appunto dai apriamolo voglio aprirlo porcaccia miseria porcaccia che cosa ci sarà dentro chi lo sa si apre da qua si apre molto piano non vorrei che si rovinasse anche se non credo hanno sbattacchiato molto probabilmente non è facile come sembra non è facile come eccolo eccolo c'è un buco c'è qualcosa c'è qualcosa che cos'è allora innanzitutto signori è una sciarpa con i loghi ricamati di twitch oh my god ma è meravigliosa ma questa non la trovi in giro questa non la compri vabbè dai vabbè ma guardalo qua nonno xyuder vi racconta una fiamma come si dice non è molto molto bella questa è tanta roba e c'era qualcos'altro ora io non so cosa sa ah no c'è ancora della roba morbida dentro what is this wow e ov'è e ov'è con il loghetto di twitch ahia il prodotto ufficiale ce l'ho ce l'ho lo metto non riesco perché tocca il tocca al tetto tocca al tetto ma che figata c'è ancora qualche cosa dentro there's something inside ahia ahia la busta ahia signori sciegola 3 devo un attimo scusate non non ahia la busta chiusa ragazzi questo questo è interessante what is this provo ad aprire la busta sciegola 4 no 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 apro la busta senza rovinarla perché mi dispiace rovinarla buon natale twitch con il logo aspetta che la apro prima il personale ma guardalo lì xyuder tanti auguri di buon natale twitch italia ma che meraviglia grazie grazie twitch spero che questo video ragazzi vi sia piaciuto io sono veramente super contento otterrò con cura questi regali vi ringrazio per averlo guardato e alla prossima ciao ciao ciao